Ciao a tutti, volevo farvi vedere che cos'è Wikibridge e come funziona. È una gran bella idea di Luigi, mio collega, che ha pensato che servisse a Wikidata contestualizzare meglio un'entità, in questo caso una persona, un autore. Il modo per farlo è portare all'interno di Wikidata, al volo, sul momento, informazione che viene dalle prime paragrafi di ogni voce Wikipedia eventualmente presente per quella collegata a questo elemento Wikidata. In questo caso si tratta soltanto della pagina francese e per fare un esempio di come mi è servito Wikibridge, vi spiego che questo storico francese, l'ho aggiunto poco fa, non mi sono basato su questa descrizione o su quella francese perché sono un po' generiche e ho visto tra le Wikibridge che invece è uno storico francese. Potevo forse ancora fare meglio, ma in ogni caso è un'informazione più interessante e di questa più generica. Le pagine Wikipedia mostrate qua eventualmente presenti sono quelle che dipendono dal Babel, cioè da quali lingue ogni utente, quindi bisogna essere collegati, ha definito all'interno della propria pagina utente. Andiamo nella mia pagina utente per vedere come si fa. e in concreto si deve fare con una stringa molto complicata, abbastanza complicata, che forse vedete meglio qui se io la ingrandisco, dove si dice che l'italiano è la mia lingua nativa, che l'inglese lo conosco a livello 3 e l'espagnolo anche, il latino che mi serve per controllo di intestazioni nelle nostre biblioteche eclesiastiche, in tedesco non ne sono niente francese, qualcosina. Tornando indietro possiamo vedere anche come si fa ad attivare Wikibridge, e cioè si fa tramite la propria pagina common.js che eventualmente dobbiamo creare se non esistesse e si deve aggiungere all'interno di quella pagina una scritta, che adesso cerco di farvi dimostrare, ecco, anzi due righe che sono queste, dove si dice che intendiamo utilizzare la configurazione Wikibridge conf e Wikibridge stesso con queste due appunto comandi. Non c'è altro a fare che scriverle, copiarle eventualmente da questo indirizzo e salvare il proprio common.js. La volta successiva ogni elemento di Wikidata avrà la sua box di Wikibridge. Wikibridge si chiude eventualmente così, con la x che c'è qui, e a questo punto buon divertimento. Ah, bisogna aggiungere anche che non solo queste lingue sono le pagine di Wikipedia che può avere una certa entità, associata a una certa entità, perché tra le le, può essere, ce ne possono essere anche di altre lingue, ovviamente venga a saperle e conoscerle per riuscire a catturare informazione eventualmente mancante. Grazie a tutti. Grazie.